Buonasera a tutti. Questa sera a indagare insieme a noi da Napoli arriva Sara De Luca. Cara indistichettrice speciale, benvenuta, prego, prego. Infermiera accompagnata da suo marito Giuseppe. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Buonasera. So molte cose di lei ma ce le giochiamo durante l'indagine, va bene? Ok, ok. E allora ecco le sue identità, le nostre identità di questa sera. Vediamo, immaginiamo per ora con chi dovremo avere a che fare. Questa sera dobbiamo riconoscere chi progetta ristrutturazione. Abbiamo chi vende polpa di riccio e chi cura giardini. C'è anche un personal shopper e chi fa sculture di palloncini. C'è chi dirige un camping, un campione del mondo di pallanuoto del 2011 e infine chi vende aspirapolvere per biliardi. Ma che idea geniale, ma è troppo bella. Anche voi potete giocare questa sera se riconoscerete chi è che vende aspirapolvere per biliardi. Aspirapolveri, aspirapolvere, insomma il plurale poi lo scopriremo, per biliardi. Di estratto dal notaio, inviate un sms al 478 478 1 oppure chiamate da rete fissa all'894 040 indicando il codice dell'identità. Se non avrete indovinato comunque acquisterete una curiosità sul programma e se estratti potrete vincere 1000 euro in gettori d'oro. Via alle telefonate. Buon divertimento. Cara Sara, ci siamo? Sì, ci siamo. E allora, come si dice, in bocca al lupo, vive il lupo, identità numero uno. Benvenuto, lei si chiama? Grazie. Corrado Cherchi, nato a Cagliari, abita a Quartuccio, provincia di Cagliari. Il signor Cherchi da Quartuccio. Potrebbe vendere polpa di riccio. Potrebbe, sì. Vabbè. Facciamo vendere polpa di riccio. Un no, un sì. Perfetto. Diciamo un pareggio. Pareggio. Un no e un sì. Grazie, grazie. Ormai vi siete espressi. Attenzione. Sara, la vedo intimidita. Vediamo quanto vale questa identità. Vale 20.000 euro. Sarà lei a, di partenza, un atteggiamento scorato, un atteggiamento dimesso. Perché sono emozionata. La vedo adesso. Vediamo come va questa. E da qui capiamo come andrà l'indagine. Ok. Per 20.000 euro. Signor Cherchi. Corrado Cherchi, da Cagliari, nato a Cagliari, è residente a Quartuccio, provincia di Cagliari. E' dunque lei la persona che vende polpa di riccio? Sì, sono io che vengo polpa di riccio. Cagliari, bravissima. La scossa c'è stata. Grazie. Complimenti anche a lei. Grazie, grazie. Eccolo. Ma cos'è, cos'è? In scatoletta? Qui è surgelato. Surgelato. Il riccio quello... Locale. Quello che si fa con lo spaghetto. Esatto, spaghetto, bruschette. Lo dico due volte. Grazie tanto. Grazie a voi. Arrivederci. A quest'ora lo fanno apposta, lo fanno. Chi ne fanno a quest'ora? Eh, esatto. Chi ne fanno.